Era già morto, ve lo giuro. È stato qualcun altro ad ammazzarlo. Luigi, lo so che sei qui. Esci, bastardo! Luigi. Luigi, l'avevano già colpito. Poi sono arrivati Luisa e quell'altro. Ah! Hai rischiato che ti sparassero. Ma come ti è saltato in mente di cercarlo da solo? Volevo fermarlo. Guarda che Enrico sa tutto. Non avrei mai ucciso Luigi. Neanche dopo quello che ha fatto Valentina.